Ciao Caterpies e bentornati per un'altra volta sul canale iCaterpie Continuiamo con l'approvamento dedicato a Pokemon Masters Mi è arrivata la notifica che Blue e il suo Pidgeot sono arrivati nelle estrazioni Per cui, visto che ho ancora 3000 gemme da parte, vedo di farmi un'altra estazione alla ricerca di Blue Andare a fare l'evento a lui dedicato, dopodiché continuiamo con la storia Prima però, sigla! Dunque, abbiamo detto che Blue è arrivato in città Voglio quel Blue e il suo Pidgeot Per cui, eccola qua Il talento di canto che colpisce tutti con il rasoio Vabbè, raga Proviamoci, Blue è figo Per cui, merita decisamente la nostra attenzione Porigofono Oh! Oh! Dai, eh! Dai, dai, dai! Ok, Kriowa non mi interessa Tu sei imbarazzante Siamo alla terza Siamo alla terza Tre, sei, già ti ho Basta! Vai via! Vecchio! Dai, un bruttissimo presentimento Sono Gardegna Non era quella che cercavo Non sei quello che cercavo Dai, dai, dai! Niente, peccato Niente, peccato Stavolta Le stazioni una dieci È andata Pessimamente Non abbiamo trovato Neanche un leggendario Vabbè, pazienza Vedremo di accumulare Altri punti di cerca Andiamo di accumulare Altre gemme E cercare di arrivare A 3000 Per prendere un altro Blu Abbiamo tutto il mese Per cui ce li proveremo Andiamo a vedere L'evento a lui Dedicato Vediamo se riusciamo A fregare Qualche gemma Le presentazioni Di Blu Bella zio Riposarsi è fondamentale Vuoi che tira qualche Dira sulle otte? No No Volevo trovarti Nell'estrazione Non mi prega niente Delle dritte Siamo compagni In squadra Non è facile Ottenere una produzione L'allenatore di forte Ma che non sia Abbiamo qualità eccezionali Lol Altro giro Altra corsa Ma Non hai fatto nulla Vabbè A caso Non è possibile Cambiare squadra Vabbè Scegli lui Scegli lui Con chi posso Con chi non posso giocare Io ho perso Del tempo All'allenarmi Creatura inutile Non si è neanche Riuscito a fare Il cappone Un colpo Sono shock E bracere Sì vabbè Stiamo affrontando Gli sconosciuti Passati per strada Vabbè Io ho perso Io ho perso Dammi gemme Dammi gemme Me ne servono tante Per cercare di riprendere Un rafforto Complicato Mesti Fa anche lei Parte della squadra Non è che dici Cioè Mezza Mezza Isola Fa parte della squadra Io ho perso Fini Sì 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 Vabbè Comunità Sicuramente Molto più far E qualcosa Di dire Se mi metto Di insegnamento E se sono più debole Di te Blu Ultimamente Qui a Pazio Stanno organizzando Un sacco di incontri E venti In occasione Nel WPM Potrò partecipare A una di queste lotte Lol Lol Questo scendente Ma per questo Del previsto Meglio così Va bene Dai Iniziamo Le lotte A squadre Non posso Cambiare squadre Vabbè Io ti mostro Il mio preferito Sporchetto Ah qua sono tutti Libri a PG8 PG8 Vabbè Non c'è neanche Fai il K Un attacco Che tristezza Oh Finalmente Forza 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 Abbiamo Oh Non gli faccio Nulla Non gli stavo Facendo Nulla Ok Ti affronterai In finale Ho come impressione Che andrei a prendere Un po' Con un allenatore Che già ho Ha dato un messaggio Una missi Sul polidofono Ha perso Ecco Mi sembra ovvio Che fosse arrivata In finale No Oh missi Blu voglio la rivincita Ti dico solo Che è molto forte Dai dai Rosso 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 No E che ha battuto Missi Un super 4 Di canto Dove Spermetticela davvero Su Vabbè 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 Scusa Fammi capire Dietro c'hai un Machamp E un tipo Il tipo è un Pokémon O è Machamp Un allenatore Fammi capire Vabbè Facciamo finta di niente Non è possibile Cambiare squadra Vabbè Hanno scelto Tutti quelli Che sono Deboli A Pigeoss Precisione Per 2 Dai dai Forza 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 Qui Se non uso gli attacchi Spaciali Scrivono Fai il K Neanche In giù Solti No Vabbè Devo arrivare All'unimossa Prima di lui Eccomi qua Eccomi qua Vediamo L'unimossa Si è evoluto Si è evoluto Tifone Nel numero 1 Che gran figata Eh si Eh si Eh si Dinamifugno Sovrumano Devo ancora capire Perché Gli attacchi Le unimosse Degli avversari No Ha evitato l'attacco All'attacco speciale E pozione Gnie Ai rasoio Li faccio sempre meno Se trovi tono shock Altrimenti rischio di Non arrivare alla mossa Prima di lui Sono servite Due unimosse Per tirare il giusto bestione Incredibile Va bene Ci abbiamo fatto Hai sconfitto Bruno I più forti in assoluto I più forti in assoluto Sono squadra ragazze Da come abbiamo fatto squadra Questa è stata la mia prova Di fiammette E i caterpi Ma ti pare che capisci L'acquistito nel tempo Se in ambito di vittoria Siamo mantenendo la calma Amazing Va bene va bene Anticipato il fatto Che arriverà rosso Voglio rosso Se mi assente anch'io Insieme a te Brava Ti ha tifiammette Che canto Bisogna anche divertirsi Bella zio Diventa più forte Sì Mi se che non Sei riuscito Ad acquistarti Nel calciomercato Nuove lotte Ti aspettano Lotta con blu Allora questo è un evento A tempo limitato Ah guarda Pian piano passa lì Il livello È un evento a tempo limitato Per cui direi Di focalizzarci prima su questo Piuttosto che andare a fare altro Wow quanti sono Come al solito Strategia Andiamo a prendere Prima Quelli ai lati E poi gli altri Che ho fatto più sotto Aumenta l'illusione E la precisione Precisione aumentata Brutti colpi aumentati Oh Machop È il tuo turno Boom Salta in aria Non mi interessa Chi arriva Tanto ce l'ho dimostra pronta Bella Precisa Calcolata Mega Pigeot No Non è saltato in aria Vabbè Ora si L'importante era quello I told you we gonna lose Lotta con blu Numero 2 Qui il livello sta sempre di più Se passavi dal 20 Al 35 Al 45 Va bene Ah Inizia ad essere anche grossi Vediamo E tre lama Non abbiamo fatto il cappò Aumentiamo l'attacco speciale E tre lama Ok Fuori anche questo Attacco speciale aumentato E tre lama Oh Dai Non gli ho fatto niente Per cui se avevo un'imossa Ok Ah Ce n'è un altro Avrei probabilmente Dovuto tenere L'unimossa Per questo bestione Vabbè Impatto Unità Lotta Va bene Ok Mi ha menato L'accetto Chi ben comincia Ouch Unimossa Unimossa di nuovo Vediamo 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 Spero di falla abbastanza Perché questo coso sta menando Non ancora Avevo Molta 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 Paura Che la sua Unimossa Mi avrebbe fatto K.O Meno male Gemme 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 Devo andare Prima del fine del mese Dov'arrivare a fare Ah no È finita Finita Va bene Boh È stato È stato un bel evento Peccato non essere riusciti a trovare A trovare blu Però vabbè Sono sicurissimo che andrà meglio la prossima volta Bene Evento dedicato a blu Finito ragazzi Per oggi è tutto Grazie di aver visto il video Col prossimo Continueremo Dal Dai capitoli normali Mi raccomando Tenete sempre allenati i vostri pokemon Io li sto portando pian piano Tutti tra il 45 e il 70 Per cui Mi aspetto le facciate lo stesso anche voi Per cui Ciao ragazzi A presto Alla prossima puntata 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 Alla prossima puntata